ecco qua un gioco ps1 quante ricordi ma quante ricordi anche ci rimangono di queste fantomatiche etichette di quelle brutte che non si staccavano mai eh potevi provare in qualsiasi modo ma ci rimaneva sempre qualcosa possiamo in ogni caso provare magari con un coltellino qualche volta vengono via ma la maggior parte delle volte è meglio non osare sì possiamo provare con lo scuola etichette lo possiamo trovare in qualsiasi ferramenta viene utilizzato regolarmente per togliere le etichette qui naturalmente ho utilizzato un case della stessa fattura dei giochi ps1 ma in ogni caso di poco valore programma spruzzarne un po e no come vedete lascia degli aloni molto importanti e va proprio a deteriorare il case quindi meglio non usarlo ma ecco qua il famoso rimedio della nonna basta soltanto un po d'acqua del cotone e olio extravergine di oliva prima di tutto andiamo ad inumidire l'etichetta con il nostro cotone ben imbevuto basta che sia abbastanza bagnata in modo che la carta che è rimasta dell'etichetta piano piano si inumidisca e poi basta creare dell'attrito anche con le dita per togliere lo strato di carta superiore in questo modo delicatamente magari senza danneggiare la custodia successivamente arriva il nostro olio basta una goccia di stendere delicatamente con il dito in modo da far impregnare bene la colla delle etichette ora io naturalmente non ho smontato e rimosso anche le parti cartacee però logicamente per non intaccare anche le parti di cellulosa è bene togliere tutto successivamente con l'unghia dopo aver aspettato magari qualche minuto andiamo a delicatamente raschiare la colla che ormai è stata fluidificata dall'olio e basta una leggera pressione con l'unghia che come potete vedere viene via in maniera abbastanza agevole successivamente con un po di carta andiamo a eliminare residui d'olio che vengono via in maniera molto molto semplice se proprio rimane qualcosa magari levare con lo sgrassatore ecco qua il risultato finito praticamente le nostre etichette se ne sono andate via a retro gaming shop piace anche usare metodi naturali e con gli ingredienti giusti e un po di pazienza il gioco è fatto